Lumia di Sicilia Teresina, sta qui? Il cameriere, ancora in maniche di camicia, ma già impiccato in un altissimo solino, squadrò da capo a piedi il giovanotto che gli stava davanti sul pianerottolo della scala. Campagnolo all'aspetto, col bavero del pastrano, rubido e alzato fin sugli orecchi e le mani paonazze, gronchi e dal freddo, che reggevano un sacchetto sudicio di qua, una vecchia valigetta di là, a contrappeso. «Teresina, e chi è?» domandò a sua volta, marcando le folte ciglia giunte, che parevano due baffi, rasi dal labbro e appiccicati lì per non perderli. Il giovanotto scosse prima la testa per far saltare dalla punta del naso una gocciolina di freddo, poi rispose «Teresina, la cantante!» «Ah!» rischiamò il cameriere con un sorriso di ironico stupore. «Si chiama così senz'altro, Teresina? E voi chi siete?» «C'è o non c'è?» domandò il giovanotto, corrugando le ciglia e sorsando col naso. «Ditele che c'è Micuccio e lasciatemi entrare!» «Ma non c'è nessuno a quest'ora!» rispose il cameriere col sorriso l'assegnato sulle labbra. «La signora Sinamarnis è ancora a teatro e...» Anche zia Marta lo interruppe Micuccio. «Ah! Lei è il nipote!» E il cameriere si fece subito cerimonioso. «Favorisca allora! Favorisca!» «Non c'è nessuno!» «Anche lei a teatro, la zia! Prima del tocco non rientreranno!» «È la serata d'onore di sua...» «Come sarebbe di lei la signora? Cugina, allora?» Micuccio restò un istante impacciato. «Non sono, no. Non sono cugino, veramente. Sono... sono Micuccio Bonavino. Lei lo sa. Vengo apposta dal paese.» Da questa risposta il cameriere stimò innanzitutto conveniente ritirare il lei e riprendere il voi. Introdusse Micuccio in una cameretta al buio, presso la cucina, dove qualcuno ronfava strepitosamente. e gli disse «Sedete qua. Adesso porto un lume». Micuccio guardò prima dalla parte d'onde veniva quel ronfo, ma non potei discernere nulla. Guardò poi in cucina, dove il cuoco assistito da un guattero apparecchiava da cena. L'odormisto delle vivande in preparazione lo vinse. Nebbe quasi un'ebbietà vertiginosa. Era poco menche digiuno dalla mattina. Veniva dalla provincia di Messina. Una notte e un giorno intero in ferrovia. Il cameriere recò il lume. E quello che ronfava nella stanza, dietro una cortina, sospesa a una funicella da una parete all'altra, borbottò tra il sonno. «Che è?» «Ehi, Dorina, su!» chiamò il cameriere. «Vedi che c'è qui il signor Bonficino». «Bonavino», corresse Micuccio, che stava a soffiarsi sulle dita. «Bonavino, Bonavino, conoscente della signora. Tu dormi della grossa, suonano alla porta e non senti. Io ho da apparecchiare. Non posso far tutto io, capisci? Badare al cuoco che non sa, alla gente che viene». Un ampio, sonoro sbadiglio, protratto nello stiramento delle membra e terminato in un nitrito per un brividore improvviso, accolse la protesta del cameriere, il quale s'allontanò esclamando. «E va bene». Micuccio sorrise e lo seguì con gli occhi attraverso un'altra stanza in penombra fino alla vasta sala in fondo, illuminata, dove sorgeva splendida la mensa. Era sto meravigliato a contemplare, finché di nuovo il ronfo non lo fece voltare a guardare la cortina. Il cameriere, col tovagliolo sotto il braccio, passava e ripassava, borbottando, or contro Dorina, che seguitava a dormire, or contro il cuoco, che doveva essere nuovo, chiamato per l'avvenimento di quella sera e lo infastidiva, chiedendo di continuo spiegazioni. Micuccio, per non infastidirlo anche lui, timò prudente ricacciarsi dentro tutte le domande che gli veniva di rivolgergli. Avrebbe poi dovuto dirgli o fargli intendere che era il fidanzato di Teresina e non voleva, pur non sapendone il perché lui stesso, se non forse per questo, che quel cameriere allora avrebbe dovuto trattare lui, Micuccio, da padrone. Ed egli, vedendolo così disinvolto ed elegante, quantunque ancora senza Marsina, non riusciva a vincere l'impaccio che già ne provava, solo a pensarci. A un certo punto, però, vedendolo ripassare, non seppe tenersi da domandargli. Scusi, questa casa, di chi è? Nostra, finché ci siamo, gli rispose in fretta il cameriere. E Micuccio rimase a tentennare il capo. Perbacco, era vero dunque, la fortuna, acciuffata, affaroni, quel cameriere che pareva un gran signore, il cuoco, sguattero, quella dorina che ronfava di là, servi tutti agli ordini di Teresina. Chi l'avrebbe mai detto? Rivedeva quel pensiero, la soffitta squallida, laggiù, laggiù, a Messina, dove Teresina abitava con la madre. Cinque anni addietro, in quella soffitta lontana, se non fosse stato per lui, mamma e figlia sarebbero morte di fame. E l'aveva scoperto lui, lui, quel tesoro, nella gola di Teresina. Ella cantava sempre allora, come una passera dei tetti, ignara del suo tesoro. Cantava per dispetto. Cantava per non pensare alla miseria, a cui egli cercava di sovvenire alla meglio, nonostante la guerra che gli muovevano in casa i genitori, la madre specialmente. Ma poteva abbandonare Teresina in quello stato, dopo la morte del padre. Abbandonarla perché non aveva nulla. Mentre lui, bene o male, un posticino ce l'aveva, il suonatore di flauto del concerto comunale. Bella ragione. E il cuore? Era stata una vera ispirazione del cielo, un suggerimento della fortuna, quel far caso alla voce di lei quando nessuno ci badava, in quella bellissima giornata d'aprile presso la finestra dell'abbaino che incorniciava vivo vivo l'azzurro del cielo. Teresina canticchiava un'appassionata rietta siciliana, di cui Micuccio ricordava ancora le tenere parole. Era triste Teresina quel giorno per la recente morte del padre e per l'ostinata opposizione dei parenti di lui. E anche egli ricordava, era triste, tanto che gli erano spuntate le lacrime sentendola cantare. Pure tant'altre volte l'aveva sentita, quella rietta, ma cantata a quel modo, mai. N'era rimasto così impressionato che il giorno appresso, senza prevenire né lei né la madre, aveva condotto con sé, su, nella soffitta, il direttore del concerto, suo amico. E così erano cominciate le prime lezioni di canto e per due anni di fila egli aveva speso per lei quasi tutto il suo stipendio. Aveva preso a Nolo un pianoforte, comperate le carte di musica e qualche amichevole compenso aveva pur dato al maestro. Dai giorni, lontani. Teresina ardeva tutta nel desiderio di spiccare il volo, di lanciarsi nell'avvenire che il maestro le prometteva luminoso. E frattanto che carezze di fuoco a lui per dimostrargli tutta la sua gratitudine e che sogni di felicità comune. Zia Marta invece scoteva amaramente il capo. Ne aveva viste tante in vita sua povera vecchietta che ormai non aveva più fiducia nell'avvenire. Temeva per la figliuola e non voleva che ella pensasse neppure alla possibilità di togliersi da quella rassegnata miseria. E poi sapeva, sapeva ciò che costava a lui la follia di quel sogno pericoloso. Ma né lui né Teresina le davano ascolto. E in vano essa si era ribellata quando un giovane maestro compositore avendo udito Teresina in un concerto aveva dichiarato che sarebbe stato un vero delitto non darle migliori maestri e una compiuta educazione artistica. A Napoli bisognava mandarla al conservatorio di Napoli a qualunque costo. E allora lui Micuccio senza pensarci due volte l'aveva rotta coi parenti. Aveva venduto un poderetto lasciato gli in eredità dallo zio prete e mandato Teresina a Napoli a compiere gli studi. Non l'aveva più riveduta da allora. Lettere sì aveva le sue lettere dal conservatorio e poi quelle di zia Marta quando già Teresina si era lanciata nella vita artistica contesa dai principali teatri dopo l'esordio clamoroso al San Carlo. A pie di quelle tremule in certe lettere raspate alla meglio sulla carta dalla povera vecchietta c'erano sempre due paroline di lei di Teresina che non aveva mai tempo di scrivere. Caro Micuccio confermo quanto ti dice la mamma sta sano e voglimi bene erano rimasti d'accordo che egli le avrebbe lasciato cinque sei anni di tempo per farsi strada liberamente. Erano giovani entrambi e potevano aspettare e quelle lettere nei cinque anni già trascorsi egli le aveva sempre mostrate a chi voleva vederle per distruggere le calunnie che i suoi parenti scagliavano contro Teresina e la madre. Poi si era ammalato era stato per morire e in quell'occasione a sua insaputa zia Marta e Teresina avevano inviato al suo indirizzo una buona somma di denaro. Parte se n'era andata durante la malattia ma il resto egli lo aveva strappato a viva forza dalle mani rapaci dei suoi parenti e ora ecco veniva a ridarlo a Teresina perché denari niente egli non ne voleva non perché gli paressero elemosina avendo egli già speso tanto per lei ma niente non lo sapeva dire lui stesso e ora più che mai lì in quella casa denari niente come aveva aspettato tant'anni poteva ancora aspettare e se poi denari Teresina ne aveva d'avanzo segno che l'avvenire le sarà schiuso ed era tempo perciò che l'antica promessa sa deimpisse a dispetto di chi non voleva crederci Micuccio sorse in piedi con le ciglia corrugate come per raffermarsi in questa conclusione si soffiò di nuovo sulle mani di azze e pestò i piedi per terra freddo gli disse passando il cameriere poco ci vorrà adesso venite qua in cucina starete meglio Micuccio non volle seguire il consiglio del cameriere che con quell'aria del gran signore lo sconcertava gli indispettiva si rimise a sedere e a pensare costernato poco dopo una forte scampanellata lo scosse Dorina la signora trillò il cameriere infilandosi in fretta in furia la marsina mentre correva ad aprire ma vedendo che Micuccio stava per seguirlo l'arrestò di botto per intimargli voi state qua prima lasciate che l'avverta si lamentò una voce insonnolita dietro la cortina e poco dopo apparve un donone tozzo affagottato che strascicava una gamba e non riusciva ancora a spiccicar gli occhi con uno scialle di lana fin sopra il naso i capelli ritinti d'oro Micuccio stette a mirarla all'occhito anche con lei sorpresa sgranò tanto d'occhi in faccia all'estraneo la signora ripete Micuccio allora Dorina riprese d'un subito coscienza eccomi eccomi disse togliendosi e buttando dietro la cortina lo scialle e adoperandosi con tutta la pesante persona a correre verso l'entrata l'apparizione di quella strega ritinta l'intimazione del cameriere chiedero a un tratto a Micuccio avvilito un angoscioso presentimento sentì la voce stridula di zia Marta di là in sala in sala Dorina il cameriere e Dorina gli passarono davanti reggendo magnifiche ceste di fiori sforse il capo a guardare in fondo la sala illuminata e vide tanti signori in marsina che parlavano confusamente la vista gli sannebbiò era tanto lo stupore tanta la commozione che non si accorse gli stesso che gli occhi gli si erano riempiti di lagrime li chiuse e in quel buio si strinse tutto in sé quasi per resistere allo strazio che gli cagionava una lunga squillante risata era di Teresina oddio e perché rideva così di là un grido represso gli fece riaprire gli occhi e si vide davanti il riconoscibile zia Marta col cappello in capo poveretta oppressa da una ricca splendida mantiglia di velluto come Micuccio tu qui zia Marta esclamò Micuccio quasi impaurito restando a contemplarla come mai seguitò la vecchietta sconvolta senza avvertire che è stato quando sei arrivato giusto questa sera oddio oddio son venuto per malpettò Micuccio non sapendo più che dire aspetta lo interruppe zia Marta come ci fa come ci fa vedi quanta gente figliolo mio è la festa di Teresina la sua serata aspetta aspetta un po' qua se voi si provò a dir Micuccio a cui l'angoscia stringeva la gola se voi credete che me ne debba andare no aspetta un po' ti dico si affrettò a rispondergli la buona vecchietta tutta imbarazzata io però riprese Micuccio non saprei dove andare in questo paese a quest'ora fia Marta lo lasciò facendogli con una mano inguantata segno da attendere ed entrò nella sala nella quale poco dopo a Micuccio pare si aprisse una voragine vi sarà fatto di improvviso silenzio poi udì chiare e distinte queste parole di Teresina un momento signori e di nuovo la vista gli sannebbiò nell'attesa che la comparisse ma Teresina non comparve e la conversazione fu ripresa nella sala tornò invece dopo pochi minuti che a lui parvero eterni zia Marta senza cappello senza mantiglia senza guanti meno imbarazzata aspettiamo un po' qua sei contento gli disse io starò con te adesso si fa cena noi ce ne staremo qua Dorina si apparecchierà questo tavolino e ce n'eremo insieme qua ci ricorderemo dei bei tempi non mi pervero di trovarmi con te biglietto mio qua qua appartati lì capirai tanti signori ehi poverina non può farne a meno la carriera mi intendi come si fa li hai veduti i giornali cose grandi figlio mio ma io io come sopramare sempre non mi parvero che me ne possa star qua con te stasera la buona vecchietta che aveva parlato parlato istintivamente per non dar tempo a micuccio di pensare alla fine sorrise e si stropicciò le mani guardandolo in tenerita Dorina venne ad apparecchiare la tavola in fretta perché già di là in sala il pranzo era cominciato verrà domandò cupo micuccio con voce angosciata dico per vederla almeno certo che verrà gli rispose subito la vecchietta sforzandosi di vincere l'impaccio appena avrà un momentino di largo già me l'ha detto si guardarono tutte e due e si sorrisero come se finalmente si riconoscessero attraverso l'impaccio e la commozione le loro anime avevano trovato la via per salutarsi con quel sorriso voi siete zia marta dicevano gli occhi di micuccio e tu micuccio il mio caro e buon figliuolo sempre lo stesso poverino dicevano quelli di zia marta ma subito la buona vecchietta abbassò i suoi perché micuccio non vi leggesse altro si stropicciò di nuovo le mani e disse mangiamo eh ho una fame io esclamò tutto lieto e raffidato micuccio la croce prima qua posso farmela davanti a te aggiunse la vecchietta con aria birichina strizzando un occhio e si segnò il cameriere venne a offrir loro il primo servito micuccio stette bene attento a osservare come faceva zia marta a trarre dal piatto la porzione ma quando venne la sua volta nel levar le mani pensò che le aveva sporche dal lungo viaggio ma Rossi si confuse alzò gli occhi a sogguardare il cameriere il quale compitissimo ora gli fece un lieve inchino col capo e un sorriso come per invitarlo a servirsi fortunatamente zia marta venne a trarlo d'impaccio qua qua micuccio ti servo io se la sarebbe baciata dalla gratitudine avuta la porzione appena il cameriere si fu allontanato si segnò anche lui in fretta bravo figuolo gli disse zia marta ed egli si sentì beato a posto e si miscia a mangiare come non aveva mangiato mai in vita sua senza più pensare le sue mani né al cameriere tuttavia ogni qualvolta questi entrando e uscendo dalla sala schiudeva la bussola a vetri e veniva di là come un'ondata di parole confuse o qualche scoppio di risa egli si voltava turbato e poi guardava gli occhi dolenti e affettuosi della vecchina quasi per leggervi una spiegazione ma vi leggeva invece la preghiera di non chiedere nulla per il momento di rimettere a più tardi le spiegazioni e tutte e due di nuovo si sorridevano e si rimettevano a mangiare e a parlare del paese lontano da amici e conoscenti di cui zia Marta gli domandava notizie senza fine non bevi? Micuccio stese la mano per prendere la bottiglia ma in quella la bussola della sala si riaprì un fruscio di seta tra passi frettolosi uno sbarbaglio quasi la cameretta si fosse ad un tratto violentemente illuminata per accecarlo Teresina e la voce gli morì sulle labbra dallo stupore ah che regina col volto in fiamme gli occhi sbarrati la bocca aperta e gli restò a contemplarla il stupidito come mai così nudo il seno nude le spalle le braccia nude tutta fulgente di gemme e di stoffe non la vedeva non la vedeva più come una persona viva e vera davanti a sé che gli diceva non la voce negli occhi nel riso nulla nulla più riconosceva di lei in quell'apparizione di sogno come va stai bene ora micuccio bravo bravo sei stato malato se non mi inganno ci rivedremo tra poco tanto qui hai con te la mamma siamo intesi eh e Teresina scappò via in sala tutta frusciante non mangi più domandò timorosa poco dopo via Marta per rompere lo sbalordimento di micuccio questi si voltò appena a guardarla mangia insistette la vecchina indicandogli il piatto micuccio si portò due dita al colletto affumicato e spiegazzato e se lo stirò provandosi a trarre un lungo respiro mangiare e agitò più volte le dita presso il mento come se salutasse per significare non mi va più non posso sette ancora un pezzo silenzioso avvilito assorto nella visione di poc'anzi poi morborò come se fatta e vide che zia Marta scoteva amaramente il capo e che aveva sospeso di mangiare anche lei come se aspettasse ma neanche a pensarci più raggiunse poi quasi tra sé chiudendo gli occhi vedeva ora in quel suo buio l'abisso che sarà aperto tra loro due no non era più lei quella lì la sua Teresina era tutto finito da un pezzo da un pezzo ed egli sciocco egli stupido se ne accorgeva solo adesso che lo avevano detto là al paese e lui sarà ostinato a non crederci e ora che figura ci faceva star lì in quella casa se tutti se tutti quei signori se quel cameriere stesso avessero saputo che egli Micuccio Bonavino sarà rotte le ossa a venire di così lontano 36 ore di ferrovia credendosi sul serio ancora il fidanzato di quella regina che risate quei signori e quel cameriere il cuoco e il guattero e Dorina che risate se Teresina lo avesse trascinato al loro cospetto lì in sala dicendo guardate questo poveretto suonatore di flauto dice che vuol diventare mio marito glielo aveva promesso lei stessa è vero ma come avrebbe potuto allora supporre che un giorno sarebbe divenuta così ed era anche vero sì che egli le aveva schiuso quella via e le aveva dato modo di incamminarvisi ma ecco ella era ormai arrivata tanto tanto lontano che egli rimasto lì sempre lo stesso a suonare il flauto le domeniche nella piazza del paese come avrebbe più potuto raggiungerla neanche a pensarci e che cos'erano poi quei pochi quattrinucci spesi allora per lei divenuta adesso una gran signora si vergognava solo a pensare che qualcuno potesse sospettare che egli con la sua venuta volesse accampare qualche diritto per quei pochi quattrinucci miserabili si sovvenne in quel punto di avere in tasca il denaro inviatogli da Teresina durante la malattia arrossì ne provò onta e si cacciò una mano nella tasca in petto della giacca dove era al portafogli ero venuto di amarta disse in fretta anche per restituirvi questo denaro che mi avete mandato che ha voluto essere pagamento restituzione vedo che Teresina è divenuta una sì mi pare una regina vedo che niente neanche a pensarci più ma questo denaro no non mi meritavo questo da lei è finita e non se ne parla più ma denari niente mi dispiace solo che non sono tutti che dici figuolo mio cercò di interromperlo afflitte con le lacrime agli occhi zia Marta mi cuccio le fece inno di star zitta non li ho spesi io li hanno spesi i miei parenti durante la malattia senza che io ne sapessi nulla ma vanno per quella miseria che spesi io allora vi ricordate non ci pensiamo più qua c'è il resto e io me ne vado ma come così di furia esclamò zia Marta cercando di trattenerlo aspetta almeno che lo dica a Teresina non hai sentito che voleva rivederti vado a dirglielo no è inutile le rispose micuccio deciso lasciatela star lì con quei signori lì sta bene al suo posto io poveretto la veduta mi è bastato o piuttosto andate pure andate anche voi di là sentite come si ride io non voglio che si rida di me me ne vado zia Marta interpretò nel peggior senso quella risoluzione improvvisa di micuccio come un atto di sdegno un moto di gelosia e sembrava e sembrava ormai poverina che tutti vedendo sua figlia dovessero ad un tratto concepire il più tristo dei sospetti quello appunto per cui ella piangeva inconsolabile tracinando senza requie il suo cordoglio segreto fra il tumulto di quella vita di lusso odioso che disonorava sconciamente la sua stanca vecchiaia ma io le scappodetto io ormai non posso più farle la guardia figliuolo mio perché domandò allora micuccio leggendole un tratto negli occhi il sospetto che gli non aveva ancora avuto e si rabbuiò in volto la vecchietta si smarrì nella sua pena e si nascose la faccia con le mani tremule ma non riuscì a frenare l'impeto delle lacrime irrompenti sì sì vattene figliuolo mio vattene disse soffocata dai singhiozzi non è più per te hai ragione se mi aveste dato ascolto dunque proruppe micuccio chinandosi su lei e strappandole a forza una mano dal volto ma fu tanto accorato e miserevole lo sguardo con cui ella gli chiese pietà portandosi un dito sulle labbre che egli si frenò e aggiunse con altro tono forzandosi a parlare piano ah lei dunque lei lei non è più degna di me basta basta me ne vado lo stesso anzi tanto più ora è sciocco via marta non l'avevo capito non piangete tanto che fa fortuna dicono fortuna prese la valigetta e sacchettino di sotto la tavola e sabbiava per uscire quando gli venne in mente che lì dentro il sacchetto c'erano le belle lumie che gli aveva portato a teresina dal paese no guardate zia marta riprese sciolse la bocca al sacchetto e facendo riparo d'un braccio versò quei freschi frutti fragranti sulla tavola e si mi mettesse a tirare tutte queste lumie soggiunse sulla testa di quei gallantuomini là per carità gemette la vecchina tra le lacrime facendogli un nuovo cenno supplichevole di tacere no niente le prese micuccio ridendo acre e rimettendosi in tasca il sacchetto vuoto le avevo portate a lei ma ora le lascio a voi sola zia marta ne prese una e l'accostò al naso di zia marta sentite zia marta sentite l'odore del nostro paese e dire che ci ho anche pagato il dazio basta a voi sola badate bene a lei dite così buona fortuna a nome mio riprese la valigetta e andò via ma per la scala un senso d'angoscioso smarrimento lo vinse solo abbandonato di notte in una grande città sconosciuta lontano dal suo paese deluso avvilito scornato giunse al portone vide che pioveva a dirotto non ebbe il coraggio d'avventurarsi per quelle vie ignote sotto quella pioggia rientrò pian piano rifece una branca di scala poi sedette sul primo scalino e appoggiando i gomiti sulle ginocchia e la testa tra le mani si mise a piangere silenziosamente sul finir della cena Sina Marnis fece un'altra comparsa nella cameretta qui trovò la mamma che piangeva anche lei sola mentre di là quei signori che ammazzavano e ridevano è andato via domandò sorpresa zia Marta accennò di sì col capo senza guardarla Sina fissò gli occhi nel vuoto assorta poi sospirò poverino ma subito dopo le venne di sorridere guarda disse la madre senza frenare più le lacrime col tovagliolo ti aveva portato le lumie oh belle esclamò Sina con un balzo strinsò un braccio alla vita e ne prese con l'altra mano quanto più poteva portarne no di là no protestò vivamente la madre ma Sina scrollò le spalle e corse in sala gridando lumie di Sicilia lumie di Sicilia